Il ministero dell'interno risponde alla lettera del sindaco Saita. Si legge nella lettera ministeriale. Il ministro Anna Maria Canciaglieri, di fatti sollecitata dalle parole scritte del primo cittadino di Seriate, ha incaricato il prefetto Alessandro Panza, capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di fornire informazioni utili riguardo l'auspicabile allentamento del patto di stabilità per i comuni virtuosi. Nella lettera recapitata a Palazzo Le Bardi, il 4 aprile, viene annunciata anche la decisione di aprire un serrato confronto fra Governo e Anci in un apposito gruppo di lavoro costituito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del Ministero dell'Interno, per trovare soluzioni che contemperino le esigenze dei comuni e quelle della finanza statale. Alcune richieste stanno trovando la giusta attenzione e si stanno reperendo le risorse necessarie per alcune misure che possano attenuare gli esagi delle amministrazioni locali, riferisce il Prefetto Pansa, specificando che i risultati concreti saranno raggiunti attraverso dei correttivi da portare al patto di stabilità con la conversione in legge del Decreto Legge 2 marzo 2012, numero 16, riguardante le disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria. Ed ora passiamo al Centro Storico. Continuano le iniziative del Comune di Seriate per promuovere e riqualificare il Centro Storico, per incentivarne il recupero del patrimonio edilizio e la Giunta Comunale, approvato il Bando 2012, per contributi a fondo perduto a sostegno di interventi edilizzi di risanamento e messe in sicurezza degli edifici del Centro Cittadino. Le agevolazioni economiche e i contributi erogabili definiti annualmente dalla Giunta verranno erargiti a opere eseguite e con certificato di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico. Possono inoltrare domanda sino al 30 giugno i cittadini residenti nel Comune di Seriate o che abbiano titolo idoneo per intervenire sull'edificio oggetto di miglioria. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.comune.seriate.bg.it Ma l'assessorato al commercio e alla cultura di Seriate hanno inoltre concesso il patrocinio con contributo all'associazione Seriate Recuperare il Centro Storico per realizzare iniziative commerciali e culturali volte alla riqualificazione e valorizzazione del Centro Cittadino. Previste in Piazza Bolognini appuntamenti di questo natura per le domeniche del 10 giugno, 2 settembre e 7 ottobre. Chiudiamo con gli spettacoli. Continua la rassegna emozioni e tradizioni. Iniziata la domenica delle palme con l'elevazione di musica sacra. Il prossimo atteso appuntamento è per sabato 14 aprile con Cristina Donà. La cantautrice arriverà al Cineteatro Gavazzeni con la tappa del tour attorno a casa a piedi. Se ci sono già aperte le prevendite per maggiori informazioni, consultare il sito comunale o www.saturnaliaweb.com o chiamare il 349-366-5300. Grazie per l'attenzione.